Sarà pubblicato nei prossimi giorni sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana l'avviso pubblico di selezione dei nuovi direttori generali delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale. Il documento, firmato dall'assessore regionale alla salute Giovanna Volo lo scorso 20 dicembre, ha ricevuto oggi l'apprezzamento dell'aggiunta di governo. Un avviso, dice il presidente della Regione Renato Schifani, che mi soddisfa perché contiene importanti elementi di novità, primo fra tutti il fatto che i colloqui con i candidati saranno pubblici. Sulla salute i siciliani sono sensibili e chiedono trasparenza di regole e rigore selettivo. Mi auguro che questa selezione, che contiamo di chiudere tra maggio e giugno, porti a un significativo cambiamento, perché la sanità siciliana ha aspetti di eccellenza che intendiamo mettere in risalto, ma lavoreremo concretamente anche per migliorare quegli altri aspetti che necessitano di essere migliorati. L'avviso di selezione sarà pubblicato anche sul sito istituzionale dell'assessorato regionale della salute. Possono partecipare esclusivamente soggetti inseriti nell'elenco nazionale di idonei. Con successivo decreto del presidente della Regione sarà nominata una commissione costituita da tre esperti, di cui uno designato da istituzioni universitarie indipendenti, uno dall'Egenas, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari regionali e uno nominato dallo stesso governatore, che procederà con la valutazione dei titoli e della concreta esperienza dirigenziale e con un colloquio pubblico.